Sura nona. Disapprovazione da parte di Allah e del suo messaggero nei confronti di quei politeisti con i quali concludeste un patto. Per quattro mesi potrete liberamente viaggiare sulla terra e sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Allah svergogna i miscredenti. Ecco da parte di Allah e del suo messaggero un proclama alle genti nel giorno del pellegrinaggio. Allah e il suo messaggero disconoscono i politeisti. Se vi pentite sarà meglio per voi. Se invece volgerete le spalle sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Annuncia a coloro che non credono un doloroso castigo. Fanno eccezione quei politeisti con i quali concludeste un patto che non lo violarono in nulla e non aiutarono nessuno contro di voi. Rispettate il patto fino alla sua scadenza. Allah ama coloro che lo temono. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri uccidete questi associatori ovunque li incontriate. Catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso. E se qualche associatore ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Allah e poi rimandalo in sicurezza. Ciò in quanto è gente che non conosce. Come potrebbe esserci un patto tra Allah e il suo messaggero e i politeisti, ad eccezione di coloro con i quali stipulaste un accordo presso la Santa Moschea? Finché si comportano rettamente con voi, comportatevi rettamente verso di loro. Allah ama i timorati. Come ci può essere un patto, quando hanno il sopravvento su di voi, non vi rispettano né per la parentela né per i giuramenti. A parole vi compiaceranno, ma nel loro cuore vi rinnegano. La maggior parte di loro è ingiusta. Svendono a vilprezzo i segni di Allah e frappongono ostacoli sul suo sentiero. È veramente nefando quello che fanno. Nei confronti dei credenti non rispettano né la parentela né i trattati. Essi sono i trasgressori. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, siano vostri fratelli nella religione. Così esponiamo chiaramente i nostri segni per gente che comprende. E se dopo il patto mancano i loro giuramenti e vi attaccano a causa della vostra religione, combattete i campi della miscredenza. Non ci sono giuramenti validi per loro. Forse così desisteranno. Non combatterete contro gente che ha violato i giuramenti e cercato di scacciare il messaggero? Sono loro che vi hanno attaccato per primi. Li temerete? Allah ha ben più diritto di essere temuto, se siete credenti. Combatteteli finché Allah li castighi per mano vostra, li copra di ignominia, vi dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti ed espella la collera dei loro cuori. Allah accoglie il pentimento di chi egli vuole. Allah è sapiente, saggio. Credete di poter essere lasciati in pace prima che Allah non abbia riconosciuto coloro che lottano e che non cercano altri alleati oltre ad Allah, al suo messaggero e ai credenti? Allah è ben informato di quello che fate. Non spetta agli associatori la cura delle moschee di Allah, mentre sono testimoni della loro stessa miscredenza. Ecco quelli che vanificano le opere loro e che rimarranno perpetuamente nel fuoco. Badino alla cura delle moschee di Allah solo coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno, eseguono l'orazione e pagano la decima e non temono altri che Allah. Forse saranno tra coloro che sono ben diretti. Metterete sullo stesso piano quelli che danno da bere i pellegrini e servono al Sacro Tempio e quelli che credono in Allah e nell'ultimo giorno e lottano per la sua causa? Non sono uguali di fronte ad Allah. Allah non guida gli ingiusti. Coloro che credono, che sono emigrati e che lottano sul sentiero di Allah con i loro beni e le loro vite, hanno i più alti gradi presso Allah. Essi sono i vincenti. Il loro Signore annuncia loro la sua misericordia e il suo compiacimento e i giardini in cui avranno delizia durevole, in cui rimarranno per sempre. Presso Allah c'è mercede immensa. O voi che credete, non prendete per alleati i vostri padri e i vostri fratelli se preferiscono la miscredenza alla fede. Chi di voi li prenderà per alleati sarà tra gli ingiusti. D. Se i vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la vostra tribù, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la rovina e le case che amate vi sono più cari di Allah e del suo messaggero e della lotta per la causa di Allah, aspettate allora che Allah renda noto il suo decreto. Allah non guida il popolo degli empi. Certamente Allah vi ha soccorsi in molti luoghi, come nel giorno di Hunain, quando eravate tronfi del vostro numero, ma non servia nulla e la terra, per quanto vasta, vi sembrava angusta. Volgeste le spalle e fuggiste. Allora Allah fece scendere la sua presenza di pace sul suo messaggero e sui credenti. Fece scendere armate che non vedeste e castigò i miscredenti. Questa è la mercede degli empi. Dopo di ciò, Allah accoglierà il pentimento di chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. O voi che credete, i politeisti sono in purità. Non si avvicinino più alla santa moschea dopo quest'anno. E non temete la miseria, che Allah, se vuole, vi arricchirà della sua grazia. In verità Allah è sapiente, saggio. Combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno, che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo e siano soggiogati. Dicono i giudei, Esdra è figlio di Allah, e i nazareni dicono, il Messia è figlio di Allah. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti. Gli annienti Allah, quanto sono forviati. Hanno preso i loro rabbini, i loro monaci e il Messia figlio di Maria come signore all'infuori di Allah, quando non era stato loro ordinato se non di adorare un Dio unico. Non vi è Dio all'infuori di Lui. Gloria a Lui, ben oltre ciò che gli associano. Vorrebbero spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah non intende che perfezionare la sua luce, anche se ciò dispiace miscredenti. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, onde farla prevalere su ogni altra religione, anche se ciò dispiace agli associatori. O voi che credete, molti rabbini e monaci divorano i beni altrui senza diritto alcuno e distolgono dalla causa di Allah. Annuncia a coloro che accumulano l'oro e l'argento e non spendono per la causa di Allah un doloroso castigo, nel giorno in cui queste ricchezze saranno rese incandescenti dal fuoco dell'inferno e ne saranno marchiate le loro fronti, i loro fianchi e le loro spalle. Questo è ciò che accumulavate? Gustate dunque quello che avete accumulato. Presso Allah, il computo dei mesi è di dodici mesi lunari nel suo libro, sin dal giorno in cui creò i cieli e la terra. Quattro di loro sono sacri. Questa è la religione retta. In questi mesi non opprimete voi stessi, ma combattete tutti assieme i politeisti come essi vi combattono tutti assieme. Sappiate che Allah è con coloro che lo temono. In verità il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di miscredenza a causa del quale si traviano i miscredenti. Un anno lo dichiarano profano e un altro lo sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah. Così facendo profanano quello che Allah ha reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti. O voi che credete, perché quando vi si dice lanciatevi in campo per la causa di Allah, siete come inchiodati alla terra. La vita terrena vi attira di più di quella ultima? Di fronte all'altra vita il godimento di quella terrena è ben poca cosa. Se non vi lancerete nella lotta vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuoccergli in nessun modo. Allah è onnipotente. Se voi non lo aiutate, Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito. Lui, il secondo di due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno, non ti affliggere, Allah è con noi. Poi Allah fece scendere su di lui la sua presenza di pace, lo sostenne con truppe che voi non vedeste e rese infima la parola dei miscredenti, mentre la parola di Allah è la più alta. Allah è eccelso, saggio. Leggeri o pesanti, lanciatevi nella missione e lottate con i vostri beni e le vostre vite. Questo è meglio per voi, se lo sapeste. Se fosse stato un affare immediato e un viaggio breve, ti avrebbero seguito, ma la distanza parve loro eccessiva. E allora si misero a giurare in nome di Allah, se avessimo potuto saremmo venuti con voi. Si perdono da loro stessi, ma Allah sa perfettamente che sono dei bugiardi. Che Allah ti perdoni. Perché egli è dispensati dal combattere, prima che tu potessi distinguere chi diceva il vero e chi era bugiardo. Coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno non ti chiedono dispensa quando si tratta di lottare con i loro beni e le loro vite. Allah conosce coloro che lo temono. Soltanto coloro che non credono in Allah nell'ultimo giorno ti chiedono dispensa. I loro cuori sono dubbiosi e restano sospesi nei loro dubbi. Se avessero voluto si sarebbero ben preparati a partire. Ma Allah ha disdegnato la loro partenza, li ha impigriti. Venne detto loro statevene in compagnia di quelli che rimangono a casa. Se fossero usciti con voi vi avrebbero solo danneggiato correndo qua e là e seminando zizzania, che certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati. Ma Allah ben conosce gli ingiusti. Già prima fomentavano ribellione ostacolando i tuoi progetti, finché venne la verità e trionfò il decreto di Allah, nonostante la loro avversione. Fra di loro vi è chi dice dispensami dalla lotta, non mettermi alla prova. Che? Non sono già stati messi alla prova? In verità l'inferno circonderà i miscredenti. Se ti giungion bene ne soffrono, se ti colpisce sventura dicono meno male che abbiamo preso le nostre precauzioni e si allontanano esultanti. D. Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi. Egli è nostro patrono. Abbiano fiducia in Allah coloro che credono. D. Cosa vi aspettate se non le due cose migliori? Quello che invece ci aspettiamo per voi è che Allah vi colpisca con un castigo da parte sua o tramite nostro. Aspettate e anche noi aspetteremo con voi. D. Che facciate le lemosina volentieri o malincuore, non sarà mai accettata, che siete gente perversa. Nulla impedisce che le loro lemosine siano accettate, eccetto il fatto che non credono in Allah e nel suo messaggero, che non vengano alla preghiera se non di mala voglia, che non danno le lemosina se non quando sono costretti. Non ti stupiscano i loro beni e i loro figli. Allah con quelli vuole castigarli in questa vita terrena e far sì che periscano penosamente nella miscredenza. Giurano per Allah che sono dalla vostra parte, mentre invece non è vero. Quella è gente che ha paura. Se trovassero un rifugio o caverne o un sotterraneo, vi si precipiterebbero a briglia sciolta. Tra loro c'è chi ti critica a proposito delle lemosine. Se ne usufruiscono sono contenti, altrimenti si offendono. Se davvero fossero soddisfatti di quello che ricevono da Allah e dal suo messaggero, direbbero, ci basta Allah. Allah ci darà della sua grazia, e così il suo messaggero ancora. I nostri desideri tendono ad Allah. Le lemosine sono per i bisognosi, per i poveri, per quelli incaricati di raccoglierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per il riscatto degli schiavi, per quelli pesantemente indebitati, per la lotta sul sentiero di Allah e per il viandante. Decreto di Allah. Allah è saggio, sapiente. Tra loro ci sono quelli che dileggiano al profeta e dicono, è tutto orecchi. Di, è tutto orecchi per il vostro bene. Crede in Allah e ha fiducia nei credenti, ed è una testimonianza di misericordia per coloro fra voi che credono. Quelli che tormentano il messaggero di Allah avranno doloroso castigo. Giurano in nome di Allah per compiacervi, ma se sono credenti, sappiano che Allah e il suo messaggero hanno maggior diritto di essere compiaciuti. Non sanno dunque che chi si oppone ad Allah e al suo messaggero avrà come dimora eterna il fuoco dell'inferno? Ecco l'abominio immenso. Gli ipocriti temono che venga rivelato una sura che sveli quello che c'è nei loro cuori. Di, schernite pure. Allah paleserà quello che temete venga reso noto. Se l'interpellassi ti direbbero, erano solo chiacchiere e scherzi. Di, volete schernire Allah, i suoi segni e il suo messaggero? Non cercate scuse, siete diventati miscredenti dopo aver creduto. Se perdoneremo alcuni di voi, altri ne castigheremo, poiché veramente sono stati empi. Gli ipocriti e le ipocrite appartengono gli uni alle altre. Ordinano quel che è riprovevole, proibiscono le buone consuetudini e chiudono le loro mani. Dimenticano Allah, ed egli li dimenticherà. Sono loro gli ipocriti a essere empi. Agli ipocriti, maschi e femmine, e ai miscredenti, Allah ha promesso il fuoco dell'inferno nel quale rimarranno in perpetuo. Questo è quanto si meritano. Allah li ha maledetti e avranno duraturo tormento. Così avvenne a quelli che vennero prima di voi, che erano più potenti e più ricchi di beni e di figli. Godettero della loro parte, e voi godete della vostra, come quelli che vennero prima di voi godettero della loro. Voi polemizzate, come essi polemizzarono. Essi sono coloro le cui opere sono rese vane in questa vita e nell'altra. Essi sono i perdenti. Non è giunta a loro la storia di quelli che vissero precedentemente, del popolo di Noè, degli Ad, dei Thamud, del popolo di Abramo, degli abitanti di Madian e delle città devastate? Messaggeri della loro gente recarono prove evidenti. Non fu Allah ad essere ingiusto con loro. Sono loro che lo furono nei loro stessi confronti. I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri, ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, eseguono l'orazione, pagano la decima e obbediscono ad Allah e al suo messaggero. Ecco coloro che godranno della misericordia di Allah. Allah è eccelso, saggio. Ai credenti e alle credenti. Allah ha promessi i giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo e splendide dimore nei giardini dell'Eden. Ma il compiacimento di Allah vale ancora di più. Questa è l'immensa beatitudine. O profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti e sii severo con loro. Il loro rifugio sarà l'inferno. Qual triste rifugio. Giurano, in nome di Allah, che non hanno detto quello che in realtà hanno detto, un'espressione di miscredenza. Hanno negato dopo aver accettato l'Islam e hanno agognato quel che non hanno potuto ottenere. Non hanno altra recriminazione se non che Allah col suo messaggero li ha arricchiti della sua grazia. Se si pentono, sarà meglio per loro. Se invece volgono le spalle, Allah li castigherà con doloroso castigo in questa vita e nell'altra. E sulla terra non avranno né alleato né patrono. Qualcuno di loro si è assunto un impegno di fronte ad Allah. Se ci darà della sua grazia, saremo certamente generosi e saremo gente del bene. Quando poi egli dà loro della sua grazia, diventano avari e volgono le spalle e si allontanano. Per questo l'ipocrisia si stabilisce nel loro cuore fino al giorno in cui lo incontreranno, perché mancarono alla promessa ad Allah e perché mentirono. Non sanno che Allah conosce i loro segreti e i loro conciliaboli e che Allah è il supremo conoscitore delle cose invisibili? Diffamano i credenti che donano spontaneamente e scherniscono quelli che non trovano da donare altro che il loro lavoro. li schernisca Allah. Avranno doloroso tormento. Che tu chieda perdono per loro o che tu non lo chieda è la stessa cosa. Anche se chiedessi settanta volte perdono per loro, Allah non li perdonerà, perché hanno negato Allah e il suo messaggero. E Allah non guida il popolo degli empi. coloro che sono rimasti indietro, felici di restare nelle loro case, opponendosi così al messaggero di Allah e disdegnando la lotta per la causa di Allah con i loro beni e le loro vite, dicono, non andate in missione con questo caldo. Dì, il fuoco dell'inferno è ancor più caldo. Se solo comprendessero. Ridano poco e molto piangono per quello che hanno fatto. Se poi Allah riconduce a te un gruppo di costoro ed essi ti chiedono il permesso di partire in missione, di loro, non verrete mai più con me e mai più combatterete il nemico in mia compagnia. Siete stati ben lieti di rimanere a casa vostra la prima volta. Rimanete allora con coloro che rimangono indietro. Non pregare per nessuno di loro quando muoiono e non star ritto in preghiera davanti alla loro tomba. Rinnegarono Allah e il suo messaggero e sono morti nell'empietà. I loro beni e i loro figli non ti stupiscano. Con quelli Allah vuole castigarli in questa vita e far sì che periscano penosamente nella miscredenza. E quando è stata fatta scendere una sura che dice credete in Allah e combattete a fianco del suo messaggero. I più agiati tra loro ti chiedono dispensa dicendo lascia che stiamo con quelli che rimangono a casa. Hanno preferito rimanere con le donne lasciate a casa. I loro cuori sono stati sigillati e non comprenderanno. Ma il messaggero e quelli che hanno creduto lottano con i loro beni e le loro vite. Avranno le cose migliori. Essi sono coloro che prospereranno. Allah ha preparato per loro giardini dove scorrono i ruscelli e dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. Quei beduini che cercano scuse sono venuti per chiederti dispensa. Mentre coloro che hanno mentito da Allah e al suo messaggero non si sono mossi. Ben presto un castigo doloroso colpirà quelli di loro che sono miscredenti. Non saranno ritenuti colpevoli i deboli, i malati e coloro che non dispongono di mezzi, a condizione che siano sinceri con Allah e col suo messaggero. Nessun rimprovero per coloro che fanno il bene. Allah è perdonatore, misericordioso. E neppure avranno colpa coloro che ti vengono a chiedere un mezzo di trasporto e ai quali rispondi non trovo mezzi con cui trasportarvi e che se ne vanno con le lacrime che scendono dai loro occhi, tristi di non avere risorse da impiegare per la causa di Allah. Saranno abiasimati solo coloro che ti chiedono dispensa nonostante non manchino di nulla. Preferiscono rimanere indietro. Allah ha sigillato i loro cuori ed essi non sanno. Quando ritornate da loro verranno a scusarsi. Di non scusatevi, non vi crederemo comunque. Allah ci ha informati sul vostro conto. Allah e il suo messaggero giudicheranno il vostro agire e poi sarete ricondotti al conoscitore dell'invisibile e del visibile, che allora vi mostrerà ciò che avrete fatto. Quando ritornerete, vi scongiureranno in nome di Allah di lasciarli stare. Allontanatevi da loro. Sono sozzura e il loro rifugio sarà l'inferno compenso per quello che hanno fatto. Giurano per compiacervi. Quando anche vi compiaceste di loro, Allah non si compiace degli ingiusti. I beduini sono i più ostinati nella miscredenza e nell'ipocrisia, i più pronti a disconoscere le leggi che Allah ha fatto scendere sul suo messaggero. Allah è sapiente, saggio. Ci sono beduini che considerano una grave imposizione quello che spendono e attendono la vostra disfatta. Saranno loro ad essere sconfitti. Allah tutto ascolta e conosce. Ci sono altri beduini che credono in Allah nell'ultimo giorno e considerano quello che spendono come un modo di avvicinarsi ad Allah e ottenere le benedizioni del messaggero. Sono di certo un mezzo per avvicinarsi ad Allah. Presto Allah li farà entrare nella sua misericordia. In verità Allah è perdonatore e misericordioso. Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente. Ed essi sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scurrono i ruscelli dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. Tra i beduini che vi stanno attorno ci sono degli ipocriti, come del resto tra gli abitanti di Medina. Essi perseverano nell'ipocrisia. Tu non li conosci, noi li conosciamo. Due volte li castigheremo e poi saranno avviati verso un castigo terribile. Altri riconoscono i loro peccati mescolando opere buone e cattive. Forse Allah accoglierà il loro pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso. Preleva sui loro beni un'elemosina tramite la quale li purifichi e li mondi e prega per loro. Le tue preghiere saranno un sollievo per loro. Allah tutto ascolta e conosce. Non sanno dunque che è Allah che accetta il pentimento dei suoi servi e che accoglie le lemosine? Allah è colui che accetta il pentimento, il misericordioso. D. Agite. Allah osserverà le vostre opere e le osserveranno anche il suo messaggero e i credenti. Presto sarete ricondotti verso colui che conosce il visibile e l'invisibile ed egli vi informerà di quello che avete fatto. Altri sono lasciati in attesa del decreto di Allah. Li punirà o accoglierà il loro pentimento. Allah è audiente, sapiente. Quanto a coloro che hanno costruito una moschea per recar danno, per miscredenza, per provocare scisma tra i credenti, per tendere un agguato a favore di colui che già in passato mosse la guerra contro Allah e il suo messaggero, quelli certamente giurano non abbiamo cercato altro che il bene. Allah testimonia che sono dei bugiardi. Non pregarvi mai. La moschea fondata sulla devozione sin dal primo giorno è più degna delle tue preghiere. In essa vi sono uomini che amano purificarsi e Allah ama coloro che si purificano. Chi ha posto le fondamenta della moschea sul timor di Allah per compiacerlo? Non è forse migliore di chi ha posto le sue fondamenta su di un lembo di terra instabile e franosa che la fa precipitare insieme con lui nel fuoco dell'inferno? Allah non guida gli ingiusti. L'edificio che hanno costruito non smetterà di essere un'inquietudine nei loro cuori, finché i loro cuori saranno strappati. Allah è sapiente, saggio. Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio al giardino. Poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. Lo avranno coloro che si pentono, che adorano, che lodano, che peregrinano, che si inchinano, che si prosternano, che raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Coloro che si attengono ai limiti di Allah. Dai la buona novella ai credenti. Non è bene che il profeta e i credenti chiedano il perdono per i politeisti, fossero anche i loro parenti, dopo che è stato reso evidente che questi sono i compagni della fornace. Abramo chiese perdono in favore di suo padre soltanto a causa di una promessa che gli aveva fatto. Ma quando fu evidente che egli era un nemico di Allah, si dissociò da lui. Eppure Abramo era tenero e premuroso nei confronti del padre. Non si addice ad Allah traviare un popolo dopo averlo guidato, senza prima render loro evidente ciò che devono temere. Allah è onnisciente. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra. Egli dà la vita e dà la morte. Non avrete all'infuori di lui né alleato né patrono. Allah si è volto con favore al profeta, agli emigrati e gli ausiliari che lo seguirono nel momento della difficoltà. Dopo che i cuori di una parte di loro erano sul punto di perdersi, egli accolse il loro pentimento. In verità egli è dolce e misericordioso nei loro confronti. Per i tre che erano rimasti a casa, la terra nella sua vastità diventò angusta e loro stessi si sentirono stretti e capirono che non c'è altro rifugio da Allah che in lui stesso. Allah accolse il loro pentimento perché potessero pentirsi. In verità Allah è colui che perdona, il misericordioso. O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri. È indegno per gli abitanti di Medina e per i beduini che vivono nei dintorni non seguire il messaggero di Allah e preferire la loro vita alla sua. Non proveranno né sete né fatica né fame per la causa di Allah. Non calpesteranno terra che possa essere calpestata nonostante l'ira dei miscridenti e non riceveranno nessun danno da un nemico senza che sia scritta a loro favore una buona azione. In verità Allah non lascia che si perda la ricompensa dei buoni. Non faranno nessuna spesa, piccolo o grande, e non percorreranno nessuna valle senza che ciò sia registrato a loro favore, affinché Allah li compensi per le loro azioni più belle. I credenti non vadano in missione tutti insieme. Perché mai un gruppo per ogni tribù non va a distruirsi nella religione per informarne il loro popolo quando saranno rientrati, affinché stiano in guardia? O voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi. Sappiate che Allah è con i timorati. Quando viene fatta scendere una sura, alcuni di loro dicono, a chi di voi questa sura ha fatto accrescere la fede? Quanto a coloro che credono, essa accresce la loro fede ed essi se ne rallegrano. Quanto a coloro che hanno una malattia nel cuore, essa giunge sozzura a sozzura e muoiono nella miscredenza. Non si accorgono che ogni anno sono tentati una o due volte, quindi non si pentono e non si ricordano. Quando scendono a sura, si guardano tra loro e dicono, forse che qualcuno vi vede, e poi si allontanano. Allontani Allah i cuori loro, che in verità sono un popolo che non capisce. Ora vi è giunto un messaggero scelto tra voi. Gli è gravosa la pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti. Se poi volgono le spalle, di, mi basta Allah. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. A Lui mi affido. Egli è il Signore del trono immenso. Sura decima Alif, Lam, Ra. Questi sono i versetti del Libro Saggio. Perché la gente si stupisce se abbiamo fatto scendere la rivelazione a uno dei loro? Avverti dai genti e da a coloro che credono la lieta novella che la loro sincerità li precede presso il loro Signore. I miscredenti dicono, costui è certamente un vero stregone. In verità, il vostro Signore è Allah, colui che in sei giorni creò i cieli e la terra, quindi si innalzò sul trono a governare ogni cosa. Non vi è alcun intercessore senza il suo permesso. Questi è Allah, il vostro Signore. Adoratelo. Rifletterete in proposito? A Lui tutti ritornerete, promessa di Allah veritiera. È Lui che ha iniziato la creazione e la reitera per compensare secondo giustizia a coloro che credono e compiono il bene. Quanto a coloro che sono stati miscredenti, saranno abbeverati con acqua bollente e avranno un castigo doloroso a causa di ciò che hanno negato. È Lui che ha fatto del sole uno splendore e della luna una luce e ha stabilito le sue fasi perché possiate conoscere il numero degli anni e il computo. Allah non creò tutto ciò se non in verità. Edia strinseca i suoi segni per la gente che conosce. In verità, nell'alternarsi del giorno e della notte e in ciò che Allah ha creato nei cieli e sulla terra, ci sono segni per genti che lo temono. In verità, coloro che non sperano nel nostro incontro e si accontentano della vita terrena e ne sono soddisfatti, e coloro che sono non curanti dei nostri segni, avranno come loro rifugio il fuoco per ciò che hanno meritato. Coloro che credono e compiono il bene, Allah li guiderà grazie alla loro fede. Ai loro piedi scorreranno i ruscelli nei giardini della delizia. Colà la loro invocazione sarà, gloria a te, Allah. Il loro saluto, pace. E l'ultima delle loro invocazioni sarà, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Se Allah affrettasse la disgrazia degli uomini con la stessa fretta con cui essi cercano il benessere, il loro termine sarebbe compiuto. Lasciamo invece procedere la cieca nella loro ribellione coloro che non sperano nel nostro incontro. Quando la disgrazia lo tocca, l'uomo ci invoca, coricato su un fianco, seduto o in piedi. Quando poi lo liberiamo dalla sua disgrazia, si comporta come se non ci avesse mai invocato a proposito della disgrazia che lo aveva colto. Così abbelliamo agli empi le azioni loro. Facemmo perire le generazioni precedenti perché furono ingiuste. Messaggeri della loro gente avevano portato le prove, ma essi non furono disposti a credere. Compensiamo così gli empi. Quindi vi costituimmo, dopo di loro, vi cari sulla terra, per vedere come vi sareste comportati. Quando vengono recitati i nostri segni, prove evidenti, coloro che non sperano di incontrarci dicono, portaci un Corano diverso da questo, oppure modificalo. D. Non posso permettermi di modificarlo di mia volontà. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Se disobbedissi al mio Signore, temerei il castigo di un giorno terribile. D. Se Allah avesse voluto, non ve lo avrei recitato, ed egli non ve lo avrebbe fatto conoscere. Sono rimasto tutta una vita tra voi prima di questo. Non riflettete dunque? Chi è peggiore ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah e taccia di menzogna i suoi segni? Gli empi non avranno riuscita. Quello che adorano in luogo di Allah non li danneggia e non giova loro. Dicono, essi sono i nostri intercessori presso Allah. D. Volete informare Allah di qualcosa che non conosce nei cieli e sulla terra? Gloria a Lui! Egli è ben più alto di ciò che gli associano. Gli uomini non formavano che un'unica comunità. Poi furono discordi. Se non fosse giunta in precedenza una parola del tuo Signore, sarebbe già stato deciso a proposito di ciò su cui erano discordi. E dicono, perché non viene fatto scendere su di Lui un segno del suo Signore? D. In verità l'invisibile appartiene ad Allah. Aspettate, e sarò con voi tra coloro che aspettano. Quando usiamo misericordia agli uomini dopo che li ha colpiti una disgrazia, essi tramano contro i nostri segni. D. Allah è il più rapido degli strateghi. I nostri angeli registrano le vostre trame. Egli è colui che vi fa viaggiare per terra e per mare. Quando siete su battelli che navigano col buon vento, gli uomini esultano. Quando sorge un vento impetuoso e le onde si alzano da ogni parte, invocano Allah e gli rendono un culto puro. Se ci salvi, saremo certamente riconoscenti. Quando poi Allah li ha salvati, ecco che si mostrano ribelli sulla terra. O uomini, in vero la vostra ribellione è contro voi stessi. Avrete gioia effimera nella vita terrena, e poi sarete ricondotti verso di noi. E allora vi informeremo circa il vostro operato. In verità questa vita è come un'acqua che facciamo scendere dal cielo e che si mescola alle piante della terra di cui si nutrono gli uomini e gli animali. Quando la terra prende i suoi ornamenti ed è rigogliosa di bellezza, i suoi abitanti pensano di possederla, ma giunge il nostro decreto di giorno o di notte e la rendiamo spoglia come se il giorno prima non fosse fiorita. Così esplichiamo i nostri segni a coloro che riflettono. Allah chiama alla dimora della pace e guida chi egli vuole sulla retta via. Bene a chi fa il bene, e ancora di più. Polvere e umiliazione non copriranno i loro volti. Essi sono i compagni del giardino e vi resteranno in perpetuo. E coloro che hanno commesso azioni malvagie vedranno pagato col male il male loro. Saranno avvolti nella vergogna, senza nessun protettore al cospetto di Allah, come se i loro volti fossero coperti di oscuri lembi di notte. Essi sono i compagni del fuoco in cui rimarranno in perpetuo. Il giorno in cui li raduneremo tutti diremo ai politeisti, date in disparte voi e vostri soci e li separeremo gli uni dagli altri. Diranno i loro soci, non adoravate certamente noi. Ci sia Allah sufficiente testimone che non ci siamo mai curati della vostra adorazione. Colà, ogni anima subirà le conseguenze di quello che già fece, e saranno ricondotti ad Allah, il loro vero padrone, mentre ciò che avevano inventato li abbandonerà. D. Chi vi provvede il cibo dal cielo e dalla terra? Chi domina l'udito e la vista? Chi trae il vivo dal morto e il morto dal vivo? Chi governa ogni cosa? Risponderanno, Allah. Allora di? Non lo temerete dunque? Questi è Allah. Ecco il vostro vero Signore. Oltre la verità, cosa c'è se non l'errore? Quanto siete sviati! Si attua così il decreto del tuo Signore contro i perversi che mai crederanno? D. C'è qualcuno dei vostri dei che inizia la creazione e la reitera? D. Allah inizia la creazione e la reitera? Come vi siete distolti? D. Quale dei vostri soci può guidare alla verità? D. Allah guida verso la verità. Ha più diritto di essere seguito chi conduce la verità o chi non sa dirigersi a meno che non sia guidato. Da maggior parte di loro non inseguono che congetture. In verità, le congetture non prevalgono in alcun modo sulla verità. Allah sa bene quello che fanno. Questo Corano non può essere forgiato da altri che Allah. Ed anzi, è la conferma di ciò che lo precede, una spiegazione dettagliata del libro del Signore dei Mondi, a proposito del quale non esiste dubbio alcuno. Oppure diranno, è lui che lo ha inventato. D. Portate una sura simile a questa e chiamate a collaborare chi potrete all'infuori di Allah, se siete veritieri. Sì, tacciano di menzogna la parte di scienza che non abbracciano, che ancora non è giunta loro la spiegazione, e in tal modo accusarono di menzogna coloro che vennero prima di loro. Ebbene, considera quale fu la sorte degli ingiusti. Tra loro c'è qualcuno che crede in esso, mentre altri non vi credono affatto. Il tuo Signore è colui che meglio conosce i corruttori. Se ti danno del bugiardo, di loro, a me l'opere mie e a voi le vostre. Non siete responsabili di quello che faccio. Non lo sarò io di quel che fate voi. Tra loro c'è qualcuno che ti ascolta. Potresti far sentire i sordi che non sono in grado di capire? Qualcun altro guarda verso di te. Potresti guidare i ciechi che nulla vedono? In verità Allah non commette nessuna ingiustizia verso gli uomini. Sono gli uomini che fanno torto a loro stessi. Il giorno in cui li riunirà sarà come se fossero rimasti solo un'ora e si riconosceranno tra loro. Quelli che hanno tacciato di menzogna all'incontro con Allah sono perduti, che erano privi della guida. Sia che ti facessimo vedere una parte di ciò con cui li minacciamo, sia che ti facessimo morire prima, è comunque verso di noi che ritorneranno. Quindi Allah sarà testimone di quello che avranno fatto. Ogni comunità ha un messaggero. Dopo che il messaggero sarà venuto, verrà giudicato tra loro con giustizia e nessuno subirà un torto. E dicono, quando si realizzerà questa promessa se siete sinceri? D. Io non possiedo da me stesso né danno né profitto all'infuori della volontà di Allah. Ogni comunità ha il suo termine. Quando esso giunge, non viene concessa né un'ora di ritardo né una di anticipo. D. Se il suo castigo vi colpisse di notte o nella giornata, gli empi potrebbero affrettarne una parte? Quando ciò verrà, crederete? Verrà detto loro, solo ora ci credete mentre prima volevate affrettarlo? Poi verrà detto a coloro che sono stati ingiusti, gustate il castigo perpetuo. Vi si paga con qualcosa di diverso da ciò che avete meritato? Ti chiederanno, è vero? D. Sì, lo giuro in nome del mio Signore, è la verità e non potrete sottrarvi alla potenza di Allah. Ogni anima peccatrice pagherebbe per riscattarsi tutto quello che c'è sulla terra se lo possedesse. Nasconderanno il loro rimpianto quando vedranno il castigo. Si deciderà di loro con giustizia e non subiranno alcun torto. In verità ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra e la promessa di Allah è verità, ma la maggior parte di loro non sanno nulla. Egli dà la vita e la morte, verso di lui sarete ricondotti. O uomini, vi è giunto un'esortazione da parte del vostro Signore. Guarigione per ciò che è nei petti, guida e misericordia per i credenti. Di loro che si compiacciano della grazia di Allah e della sua misericordia, che ciò è meglio di quello che accumulano. D. Cosa pensate del cibo che Allah ha fatto scendere per voi e che dividete in illecito e lecito? D. È Allah che ve lo ha permesso oppure inventate menzogne contro Allah? Cosa penseranno nel giorno della resurrezione coloro che inventano menzogne contro Allah? In verità Allah possiede la grazia per gli uomini, ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti. In qualunque situazione ti trovi, qualunque brano del Corano reciti e qualunque cosa facciate, noi siamo testimoni al momento stesso in cui la fate. Al tuo Signore non sfugge neanche il peso di un atomo sulla terra o nel cielo. Non c'è cosa alcuna, più piccola o più grande di ciò, che non sia registrata in un libro esplicito. In verità, quanto agli intimi, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Coloro che credono e sono timorati, le attende la lieta novella in questa vita e nell'altra. Le parole di Allah non subiscono alterazione. Questo è l'immenso successo. Non ti addolorino le loro parole. Tutta la potenza appartiene ad Allah. Egli audiente, sapiente. Certamente appartiene ad Allah tutto ciò che è nei cieli e ciò che è sulla terra. Cosa seguono coloro che invocano consoci all'infuori di Allah? Non inseguono che vane congetture e non fanno che supposizioni. Egli ha fatto per voi la notte affinché riposiate e il giorno affinché vi rischiari. In verità in ciò vi sono segni per la gente che ascolta. Dicono, Allah si è preso un figlio. Gloria a lui, egli è colui che basta a se stesso. Gli appartiene tutto quello che è nei cieli e tutto quello che è sulla terra. Non avete nessuna prova per dire ciò. Direte su Allah ciò che non sapete? Dì. Coloro che inventano menzogne contro Allah non prospereranno. Avranno gioia effimera nella vita terrena. Quindi ritorneranno a noi e faremo gustare loro un castigo severo per la loro miscredenza. Racconta loro la storia di Noè quando disse al suo popolo. O popol mio, se la mia presenza e il mio richiamo ai segni di Allah vi sono insopportabili, io mi affido ad Allah. Prendete le vostre decisioni insieme coi vostri consoci e non abbiate scrupoli nei miei confronti. Stabilite quello che volete fare di me senza porre indugi. E se mi voltate le spalle non vi chiedo ricompensa alcuna. La mia ricompensa è in Allah e ho ricevuto l'ordine di essere uno dei musulmani. Lo trattarono da bugiardo. Noi lo salvammo. Lui e coloro che erano nell'arca con lui li facemmo successori e affogammo coloro che tacciavano di menzogne i nostri segni. Guarda quello che è successo a coloro che erano stati avvertiti. Dopo di lui mandammo altri messaggeri ai loro popoli. Vennero loro con le prove ma la gente non volle credere a ciò che in principio aveva tacciato di menzogna. Così suggegliamo i cuori dei trasgressori. Dopo di loro mandammo con i nostri segni Mosè e Aronne a Faraone e ai suoi notabili. Essi furono orgogliosi. Era gente perversa. Quando giunse loro la verità da parte nostra dissero questa è magia evidente. Disse Mosè vorreste dire della verità dopo che vi si è manifestata questa è magia? I maghi non avranno riuscita alcuna. Dissero sei venuto per allontanarci da quello che i padri ci hanno tramandato e per far sì che la grandezza sulla terra appartenga a voi due? Non vi crederemo. Disse Faraone conducetemi ogni mago sapiente. Quando poi giunsero i maghi Mosè disse loro gettate quello che avete da gettare. Quando ebbero gettato Mosè disse quello che avete prodotto è magia. In verità Allah la vanificherà. In verità Allah non rende prospero l'operato dei corruttori. Allah conferma il vero con le sue parole a rispetto dei perversi. Nessuno credette in Mosè eccetto alcuni giovani della sua gente temendo che Faraone e i loro notabili li mettessero alla prova. Era tiranno sulla terra Faraone era uno dei trasgressori. Disse Mosè o popol mio se credete in Allah abbiate fiducia in lui se siete musulmani. Dissero ci affidiamo ad Allah. O signor nostro non fare di noi una tentazione per gli oppressori. Liberaci per la tua misericordia da questo popolo di miscredenti. Rivelammo a Mosè a suo fratello preparate in Egitto case per il vostro popolo. Fate delle vostre case luoghi di culto e assolvete all'orazione. Danne la lieta novella ai credenti. Disse Mosè. O signor nostro in vero hai dato a Faraone e ai suoi notabili onori e beni della vita terrena affinché o signor nostro si distolgano dal tuo sentiero. O signor nostro cancella i loro beni e indurisci i loro cuori che non credano fino a che non avranno visto il castigo doloroso. Allah disse la vostra richiesta è esaudita. State saldi entrambi e non seguite il sentiero di coloro che non sanno nulla. E facemmo attraversare il mare e i figli di Israele. Faraone e le sue armate li inseguirono per accanimento e ostilità. Poi quando fu sul punto di annegare Faraone disse credo che non c'è altro dio all'infuori di colui in cui credono i figli di Israele e sono tra coloro che si sottomettono. Disse Allah ora ti penti quando prima è disobbedito ed eri uno dei corruttori. Oggi salveremo il tuo corpo affinché tu sia un segno per quelli che verranno dopo di te ma in verità la maggioranza degli uomini sono incuranti dei segni nostri. Insediamo i figli di Israele in un paese sicuro e li provvedemmo di cibo eccellente e non furono discordi se non quando venne loro la scienza. In verità il tuo Signore nel giorno della resurrezione deciderà a proposito delle loro divergenze. E se dubiti a proposito di ciò che abbiamo fatto scendere su di te interroga coloro che già prima recitavano le scritture. La verità ti è giunta dal tuo Signore non essere tra i dubbiosi. E non essere tra coloro che smentiscono i segni di Allah che saresti tra i perdenti. In verità coloro contro i quali si realizza la parola del tuo Signore non crederanno anche se giungessero loro tutti i segni finché non vedranno il castigo terribile. Ci fosse stata almeno una città credente cui fosse stata utile la sua fede a parte il popolo di Giona. Quando ebbero creduto allontanamo da loro il castigo ignominioso in questa vita e li lasciamo godere per qualche tempo. se il tuo Signore volesse tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli ad essere credenti? Nessuno può credere se Allah non lo permette. Egli destina l'abominio coloro che non ragionano. D. Osservate quello che c'è nei cieli e sulla terra ma nei segni e nelle minacce serviranno alla gente che non crede. Cos'altro aspettano se non giorni simili a quelli di coloro che vissero prima di loro. D. Aspettate. Sarò con voi tra coloro che aspettano. Infine salveremo i nostri messaggeri e coloro che credono. Salvare i credenti è incombenza nostra. D. O uomini se avete qualche dubbio sulla mia religione confermo che io non adoro quello che voi adorate all'infuori di Allah ma adoro Allah che vi farà morire. Mi è stato ordinato di essere uno di coloro che credono. E mi è stato ordinato? Sii sincero nella religione. Non essere un associatore. E non invocare all'infuori di Allah chi non ti recca né beneficio né danno. Se lo facessi saresti uno degli ingiusti. Se Allah decreta che ti giunga una sventura non c'è nessuno eccetto lui che possa liberartene. E se vuole un bene per te nessuno può ostacolare la sua grazia. Egli ne gratifica chi vuole tra i suoi servi. Egli è il perdonatore il misericordioso. D. O uomini vi è giunta la verità da parte del vostro signore. Chi è sulla retta via lo è per se stesso e chi se ne allontana lo fa solo suo danno. Io non sono responsabile di voi. Segui ciò che ti è stato rivelato e sopporta con pazienza finché Allah giudichi. Egli è il migliore dei giudici. Sura undicesima. Alif, Lam, Ra. Ecco un libro i cui segni sono stati confermati e quindi esplicati da un saggio ben informato. Non adorate altri che Allah. In verità sono per voi a monitore enunzio di una buona novella da parte sua. Se chiedete perdono al vostro signore e tornate a lui pentiti vi darà piena soddisfazione in questa vita fino al termine prescritto e darà ad ogni meritevole il merito suo. Se invece volgerete le spalle temo per voi il castigo di un gran giorno. Ad Allah ritornerete. Egli è onnipotente. È per nascondersi a lui che si ripiegano su se stessi? Anche se cercano di nascondersi sotto i loro vestiti, Egli conosce quello che celano e quello che fanno apertamente. In verità Egli conosce il profondo dei cuori. Non c'è animale sulla terra cui Allah non provveda al cibo. Egli conosce la sua tana e il suo rifugio, poiché tutto è scritto nel libro chiarissimo. È lui che ha creato i cei della terra in sei giorni. Allora stava sulle acque il suo trono per vagliare chi di voi agirà per il bene. E se dici sarete resuscitati dopo la morte? Coloro che sono miscredenti certamente diranno questa è magia evidente. E se allontaniamo il castigo da loro fino a un tempo prestabilito, certamente diranno cosa lo trattiene. Il giorno in cui arriverà non potranno allontanarlo da loro e saranno circondati da quello che schernivano. Se facciamo gustare all'uomo la nostra misericordia e poi gliela neghiamo, ecco che ingratamente si dispera. Se gli facciamo gustare una grazia dopo la sventura, dirà certamente i mali si sono allontanati da me e diverrà esultante e borioso. Tutti si comportano così, eccetto coloro che perseverano e compiono il bene. Essi avranno perdono e mercede grande. Forse vorresti tralasciare una parte di ciò che ti è stato rivelato e forse il tuo petto è angustiato da quello che dicono perché non è stato fatto scendere un tesoro su di lui o perché non è accompagnato da un angelo. In verità tu sei solo un ammonitore. Allah è il garante di tutto. Oppure diranno, lo ha inventato. Di, portatemi dieci sure inventate da voi simili a questa e chiamate chi potete all'infuori di Allah, se siete sinceri. E se non vi risponderanno, sappiate che esso è stato rivelato con la scienza di Allah e che non c'è Dio all'infuori di lui. Sarete musulmani? Coloro che bramano gli agi della vita terrena sappiano che in essa compenseremo le opere loro e nessuno sarà defraudato. Per loro, nell'altra vita, non ci sarà altro che il fuoco e saranno vanificate le loro azioni. Cosa dire allora di colui che si basa su una prova proveniente dal suo Signore e che un testimone da lui inviato gli recita? Prima di esso c'era stata la scrittura di Mosè, guida e misericordia alla quale essi credono. E quelli delle fazioni che non credono si incontreranno nel fuoco. Non essere in dubbio al riguardo. È la verità che proviene dal tuo Signore, ma la maggior parte della gente non crede. Chi è più ingiusto di colui che inventa una menzogna contro Allah? Essi saranno condotti al loro Signore e testimoni diranno ecco quelli che hanno mentito contro il loro Signore. Cada sugli ingiusti la maledizione di Allah. Coloro che frappongono ostacoli sul sentiero di Allah cercano di renderlo tortuoso e non credono nell'altra vita. Non sono loro ad avere potere sulla terra e non avranno patrono alcuno all'infuori di Allah. Il loro castigo sarà raddoppiato. Non sapevano ascoltare e neppure vedere. Hanno rovinato le anime loro e quello che inventavano li ha abbandonati. Sono certamente quelli che nella vita futura saranno quelli che avranno perduto di più. In verità, quelli che credono, compiono il bene e si umiliano di fronte al loro Signore saranno i compagni del giardino e vi rimarranno in perpetuo. È come se fossero due gruppi, uno di ciechi e sordi e l'altro che vede e sente. Sono forse simili? Non rifletterete dunque? Già inviamo Noè al popolo suo. Io sono un nuncio esplicito, affinché non adoriate altri che Allah. In verità temo per voi il castigo di un giorno doloroso. I notabili del suo popolo che erano miscredenti dissero, a noi sembri solo un uomo come noi e non ci pare che ti seguano altri che i più miserabili della nostra gente. Non vediamo in voi alcuna superiorità su di noi, anzi pensiamo che siate bugiardi. Disse, cosa direste gente mia se mi appoggiassi su una prova proveniente dal mio Signore e se mi fosse giunta da parte sua una misericordia che è a voi preclusa a causa della vostra cecità? Dovremmo imporvela nonostante la rifiutiate? O popolo mio, non vi chiedo alcun compenso. La mia ricompensa è in Allah. Non posso scacciare quelli che hanno creduto e che incontreranno il loro Signore. Vedo che siete veramente un popolo di ignoranti. O popolo mio, chi mi verrà in soccorso contro Allah se li scacciassi? Non rifletterete dunque? Non vi dico di possedere i tesori di Allah. Non conosco l'invisibile e neanche dico di essere un angelo. Non dico a coloro che i vostri occhi disprezzano che mai Allah concederà loro il bene. Allah conosce quello che c'è nelle loro anime. Se dicessi ciò, certo sarei un ingiusto. Dissero, o noè, hai polemizzato con noi, hai polemizzato anche troppo. Fai venire quello di cui ci minacci se sei sincero. Dissero, Allah se vuole ve lo farà venire e voi non potrete sfuggirvi. Il mio consiglio sincero non vi sarebbe d'aiuto se volessi consigliarvi mentre Allah vuole traviarvi. Egli è il vostro Signore e a Lui sarete ricondotti. Oppure dicono, lo ha inventato. Di, se l'ho inventato, che la colpa ricada su di me. Non sono colpevole di ciò di cui mi accusate. Fu ispirato a Noè. Nessuno del tuo popolo crederà, a parte quelli che già credono. Non ti affliggere per ciò che fanno. Costruisci l'arca sotto i nostri occhi e secondo la nostra rivelazione. Non parlarmi a favore degli ingiusti. In verità saranno annegati. E mentre costruiva l'arca, ogni volta che i notabili della sua gente gli passavano vicino, si burlavano di lui. Disse, se vi burlate di noi, ebbene, allo stesso modo ci burleremo di voi. E ben presto saprete su chi si abbatterà un castigo ignominioso, su chi verrà castigo perenne. Quando giunse il nostro decreto e il forno buttò fuori, dicemmo, fai salire una coppia per ogni specie e la tua famiglia, eccetto colui del quale è già stata decisa la sorte, e coloro che credono. Coloro che avevano creduto insieme con lui erano veramente pochi. Disse allora Noè, salite, il viaggio e la prodo sono in nome di Allah. In verità il mio Signore è perdonatore misericordioso. E l'arca navigò, portandoli tra onde alte come montagne. Noè chiamò suo figlio, che era rimasto in disparte. Figlio mio, sali insieme con noi, non rimanere con i miscredenti. Rispose, mi rifugierò su un monte che mi proteggerà dall'acqua. Disse Noè, oggi non c'è nessun riparo contro il decreto di Allah, eccetto per colui che gode della sua misericordia. Si frapposero le onde tra i due, e fu tra gli annegati. E fu detto, o terra, inghiotti le tue acque, o cielo, cessa. Fu risucchiata l'acqua, il decreto fu compiuto, e quando l'arca si posò sul monte al Giudi, fu detto, scompaiano gli empi. Noè invocò il suo Signore dicendo, Signore, mio figlio appartiene alla mia famiglia, la tua promessa è veritiera e tu sei il più giusto dei giudici. Disse Allah, o Noè, egli non fa parte della tua famiglia, è frutto di qualcosa di empio. Non domandarmi cose di cui non hai alcuna scienza. Ti ammonisco affinché tu non sia tra coloro che ignorano. Disse, mi rifugio in te, o Signore, dal chiederti cose sulle quali non ho scienza. Se tu non mi perdoni e non mi usi misericordia, sarò tra i perdenti. Fu detto, o Noè, sbarca con la nostra pace, e siate benedetti tu e le comunità che discenderanno da coloro che sono con te. Anche ad altre comunità concederemo gioia effimera, e poi verrà loro da parte nostra un doloroso castigo. Questa è una delle notizie degli ignoto che ti riveliamo. Tu non le conoscevi, e neppure il tuo popolo prima di ora. Sopporta dunque con pazienza. In verità, i timorati di Allah avranno il buon esito. Agli Ad, mandammo il loro fratello, Hud. Disse, O popol mio, adorate Allah, non c'è Dio all'infuori di lui. Voi siete degli inventori di menzogne. O popol mio, non vi domando nessuna ricompensa, e s'aspetta colui che mi ha creato. Non capirete dunque? O popol mio, implorate il perdono del vostro Signore, e tornate a Lui pentiti, affinché vi invii pioggi abbondanti dal cielo, e aggiunga forza alla vostra forza. Non voltate colpevolmente le spalle. Dissero, O Hud, non ci è recato nessuna prova, non vogliamo abbandonare i nostri dèi per una tua parola, e non crediamo in te. Possiamo solo dire che uno dei nostri dèi ti ha reso folle. Disse, Mi sia testimone Allah, e siate anche voi testimoni che rinnego tutto ciò che associate all'infuori di Lui. Tramate tutti contro di me, non fatemi attendere. In vero, io confido in Allah, mio Signore e vostro Signore. Non c'è creatura che Egli non tenga per il ciuffo. Il mio Signore è sull'orretto sentiero. Anche se volgerete le spalle, io vi ho comunicato quello per cui vi sono stato inviato. Il mio Signore sostituirà il vostro popolo con un altro, mentre voi non potrete nuocergli nulla. In verità il mio Signore è il custode di tutte le cose. E quando giunse il nostro decreto, salvammo per misericordia nostra, Hud, e con Lui quelli che avevano creduto. Li salvammo da un severo castigo. Questi furono gli Ad. Negarono i segni del loro Signore. Disobbedirono i Suoi messaggeri. E avevano obbedito agli ordini di ogni protervo tiranno. Furono perseguitati da una maledizione in questo mondo e nel giorno della Ressurrezione. In verità gli Ad non credettero nel loro Signore. Scompaiano gli Ad, popolo di Hud. E mandammo ai Thamud il loro fratello Saleh. Disse loro, O popol mio, adorate Allah, non c'è Dio all'infuori di Lui. Vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzaste. Implorate il suo perdono e tornate a Lui. Il mio Signore è vicino e pronto a rispondere. Dissero, O sale, finora avevamo grandi speranze su di te. Ora ci vorresti interdire l'adorazione di quel che adoravano i padri nostri? Ecco che siamo in dubbio in merito a ciò verso cui ci chiami. disse, O popol mio, cosa pensate? Se mi baso su una prova evidente giuntami dal mio Signore che mi ha concesso la sua misericordia, chi mai mi aiuterebbe contro Allah se gli disobbedissi? Voi potreste solo accrescere la mia rovina. O popol mio, ecco la cammella di Allah, un segno per voi. Lasciatela pascolare sulla terra di Allah e fate sì che non la tocchi male alcuno, che vi colpirebbe imminente castigo. Le tagliarono i garretti. Disse, godetevi le vostre dimore ancora per tre giorni. Ecco una promessa non mendace. Quando giunse il nostro decreto, per nostra misericordia salvammo sale e coloro che avevano creduto dall'ignominia di quel giorno. In verità il tuo Signore è il forte, l'eccelso. Il grido investì quelli che erano stati ingiusti e li lasciò bocconi nelle loro case, come se non le avessero mai abitate. In verità i Thamud non credettero nel loro Signore? Periscano ai Thamud. Giunsero presso Abramo i nostri angeli con la lieta novella. Dissero, pace. Rispose, pace. E non tardò a servir loro un vitello arrostito. Quando vide che le loro mani non lo avvicinavano, si insospettì ed ebbe paura di loro. Dissero, non aver paura. In verità siamo stati inviati al popolo di Lot. Sua moglie era in piedi e rise. Le annunciamo Isacco. E dopo Isacco, Giacobbe. Ella disse, guai a me, partorirò vecchia come sono con un marito vegliardo? Questa è davvero una cosa singolare. Dissero, ti stupisci dell'ordine di Allah? La misericordia di Allah e le sue benedizioni siano su di voi, o gente della casa. In verità egli è degno di lode, glorioso. Quando Abramo fu rassicurato e apprese la lieta novella, cercò di disputare con noi a favore del popolo di Lot. In vero Abramo era magnanimo, umile, inclina il pentimento. O Abramo, desisti da ciò che già il decreto del tuo Signore è deciso. Giungerà loro un castigo irrevocabile. E quando i nostri angeli si recarono da Lot, egli nebbe pena e si rammaricò della debolezza del suo braccio. Disse, questo è un giorno terribile. La gente del suo popolo andò da lui tutta eccitata. Già avevano commesso azioni empie. Disse loro, o popol mio, ecco le mie figlie, sono più pure per voi. Temete Allah e non svergognatemi davanti ai miei ospiti. Non c'è fra voi un uomo di coscienza? Dissero, sai bene che non abbiamo alcun diritto sulle tue figlie, sai bene quello che vogliamo. Disse, se potessi disporre di forza contro di voi, se solo potessi trovare saldo appoggio. Gli angeli dissero, oh Lot, noi siamo i messaggeri del tuo Signore, costoro non potranno toccarti. Fa partire la tua gente sul finire della notte e nessuno di voi guardi indietro, eccetto tua moglie, che in verità ciò che accadrà a loro accadrà anche a lei. In verità alla scadenza è l'alba. Non è forse vicina l'alba? Quando poi giunse il nostro decreto, rivoltammo la città sottosopra e facemmo piovere su di essa pietre d'argilla indurita, contrassegnate dal tuo Signore. Ed esse non sono mai lontane dagli iniqui, e ai Madianiti mandammo il loro fratello Schweib. Disse, oh popol mio, adorate Allah, non avete altro Dio all'infuori di Lui, non truffate sul peso e sulla misura. Vi vedo in agiatezza, ma temo per voi il castigo di un giorno che tutto avvolgerà. Oh popol mio, riempite la misura e date il peso con esattezza, non defraudate la gente dei loro beni e non spargete disordine sulla terra, da corruttori. Quello che permane presso Allah è meglio per voi se siete credenti. Io non sono il vostro custode. Dissero, oh Schweib, abbandonare quello che adoravano i nostri avi, non fare dei nostri beni quello che ci aggrada, e questo che ci chiede la tua religione, in vero tu sei indulgente e retto. Disse, oh popol mio, cosa pensate se mi baso su una prova evidente giuntami del mio Signore, che mi ha concesso provvidenza buona? Non voglio fare diversamente da quello che vi proibisco. Voglio solo correggervi per quanto posso. Il mio successo è soltanto in Allah, in lui confido e a lui ritornerò. Oh popol mio, non vi spinga nell'abiezione il contrasto con me, al punto che vi colpisca ciò che colpì il popolo di Noè, la gente di Hud e il popolo di Sale. Il popolo di Lot non è lontano da voi. Chiedete perdono al vostro Signore, volgetevi a lui. Il mio Signore è misericordioso, amorevole. Dissero, oh Schweib, non capiamo molto di quello che dici e in vero ti consideriamo un debole fra noi. Se non fosse per il tuo clan, ti avremmo certamente lapidato, poiché non ci sembri affatto potente. Disse, oh popol mio, il mio clan vi sembra più potente di Allah, al quale voltate apertamente le spalle? In verità il mio Signore abbraccia nella sua scienza tutto quello che fate. Oh popol mio, fa pure quello che vuoi, che anch'io lo farò. Ben presto saprete chi sarà precipitato nel castigo abominevole, chi sarà stato il mendace. Aspettate, che anch'io aspetterò insieme con voi. E quando giunse il nostro decreto, per misericordia nostra salvammo Schweib e coloro che avevano creduto insieme con lui. Il grido sorprese gli iniqui. L'indomani giacevano bocconi nelle loro dimore, come se mai le avessero abitate. Periscano i medianiti come perirono i tamud. In verità inviamo Mosè con i nostri segni e con autorità evidente a Faraone e ai suoi notabili. Essi obbedirono all'ordine di Faraone, anche se l'ordine di Faraone era iniquo. Nel giorno della Ressurrezione, precederà il suo popolo come gregge e li abbevererà nel fuoco. Che orribile abbeverata. Una maledizione li perseguiterà in questo mondo e nel giorno della Ressurrezione. Che detestabile dono ricevono. Queste sono alcune delle storie delle città che ti raccontiamo. Alcune sono ancora ritte e altre falciate. Non facemmo loro alcun torto. Esse stesse si fecero torto. Gli dei che invocavano all'infuori di Allah non li hanno in nulla protetti quando giunse il decreto del loro Signore. Non fecero altro che accrescerne la rovina. Castiga così il tuo Signore quando colpisce le città che hanno agito ingiustamente. È in vero un castigo doloroso e severo. Ecco un segno per chi teme il castigo dell'altra vita. Sarà un giorno in cui le genti saranno radunate. Sarà un giorno confermato. Non lo posticiperemo che sino al suo termine stabilito. Nel giorno in cui avverrà nessuno parlerà senza il suo permesso e ci saranno allora gli infelici e i felici. E gli infelici saranno nel fuoco tra sospiri e singhiozzi per rimanervi fin tanto che dureranno i cieli e la terra a meno che il tuo Signore non decida altrimenti che il tuo Signore fa quello che vuole. Coloro invece che saranno felici rimarranno nel paradiso fin tanto che dureranno i cieli e la terra a meno che il tuo Signore non decida altrimenti. Sarà questo un dono senza fine. Non essere in dubbio a proposito di quello che si adorano. Non adorano se non come adoravano i loro avi. Daremo loro la loro spettanza senza diminuzione. Già ad Emma Mosè la scrittura e sorsero divergenze in suo proposito. Se non fosse stato per un decreto precedente del tuo Signore già sarebbe stato giudicato tra loro e su di essa sono in dubbio profondo. In verità il tuo Signore darà a tutti il compenso delle opere loro. Egli è perfettamente al corrente di quello che fanno. Sei dunque retto come ti è stato ordinato tu e coloro che si sono convertiti insieme con te. Non prevaricate che egli osserva quello che fate. Non cercate il sostegno degli ingiusti. In tal caso il fuoco vi colpirebbe. Non avrete alcun alleato contro Allah e non sarete soccorsi. Esegui l'orazione alle estremità del giorno e durante le prime ore della notte. Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. Questo è un ricordo per coloro che ricordano. Sii paziente che Allah non manda perduta la mercede di coloro che fanno il bene. Perché mai tra le generazioni che vi precedettero le persone virtuose che proibivano la corruzione della terra e che salvammo erano poco numerose mentre gli ingiusti si davano al lusso di cui godevano e furono criminali? Mai il tuo Signore annienterebbe ingiustamente le città se i loro abitanti agissero rettamente. Se il tuo Signore avesse voluto avrebbe fatto di tutti gli uomini una sola comunità. Invece non smettono di essere in contrasto tra loro eccetto coloro ai quali il tuo Signore ha concesso la sua misericordia. Per questo li ha creati. Così si realizza la parola del tuo Signore in verità riempirò l'inferno di uomini e di demoni assieme. Ti raccontiamo tutte queste storie sui messaggeri affinché il tuo cuore si rafforzi. In questa sura ti è giunta la verità insieme con un ammonimento ed un monito per i credenti. Di a coloro che non credono agite per quanto vi è possibile che anche noi agiremo e aspettate che anche noi aspetteremo. Appartiene ad Allah l'invisibile dei cieli della terra. A lui si riconduce l'ordine totale. Adoralo dunque e confide in lui. Il tuo Signore non è disattento a quello che fate.